Nella nostra Umbria c'è una grande cultura di maglieria e io ebbi quest'idea, io vorrei far Kashmir. L'amantero che ho ricevuto serve il mondo della moda, il mondo del lusso e che ha al suo interno un fortissimo know-how, una profonda conoscenza di questo mercato. Sono nata e cresciuta in una famiglia che lavora per generazioni in questo mondo, che è riuscita a fare del suo cognome un marchio importante. Ho cresciuta a pane e moda e quindi ho sempre lavorato in questo campo. Grazie per la visione!